Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1 a Milano-Napoli tra Firenze-Scandici e il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Si segnalano 6 km di coda con tendenza all'aumento a partire da Firenze-Scandici per un tamponamento tra 4 camion all'altezza del km 276,6. Si segnalano inoltre perdita di carico costituito da cemento in polvere. Sempre verso nord il traffico è bloccato tra Calenzano e Bivio 1 variante. L'incidente genera coda anche sul Bivio 11 a 1 provenendo da Pisa in direzione a Bologna. Ci spostiamo in Fipili per lavori, troviamo rallentamenti tra Empoli-Est ed Empoli e tra Pisa Nord-Est e Bivio di Ramazione Pisa, raccordo Pisa-Centro, tutto in direzione mare. Muoversi in Toscana-Infio è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!